Cari amiche, oggi faremo amicizia con la forchetta, uno strumento solitamente metallico adoperato sia a tavola che in cucina per ragioni di igiene e di etichetta. Grazie a questa pratica e invenzione noi possiamo infatti spostare qualunque alimento o porzione di esso, purché sia di consistenza solida senza toccarlo direttamente con le mani. Per prima cosa occorre abituarsi a impugnare la nostra forchetta dalla parte del manico, che si distingue intuitivamente dal versante funzionale della forchetta stessa, che è dotato di quattro punte. I rebbi. A titolo di esempio noi adesso useremo una mela che abbiamo scelto per maggiore chiarezza, ma vi posso garantire che con un po' di pratica vi abituerete a usare la forchetta anche su pietanze di più difficile maneggevolezza. Noi andiamo a esercitare una lieve pressione sulla mela stessa e vedremo che la forchetta tende a penetrare l'alimento sino al punto di riuscire a sorreggerlo autonomamente e questo rende facile spostare il cibo senza toccarlo. Vedete amiche? Io ricordo che l'impiego della forchetta non è limitato alla cucina, ma essa è molto diffusa proprio sulle tavole e noi stessi consigliamo di dotare durante il pranzo a ciascuno dei nostri ospiti della sua forchetta individuale. Arrivederci amiche.